ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video oggi non sono sulla mia scrivania ma da un'altra parte perché la mia scrivania al momento è occupata per un progetto quindi non non posso utilizzarla per questo video e niente mi sono arrivate queste nuove blind bag da da parte degli stessi creatori dell'etrabots infatti come vedete qua sul sul fumetto barra devlian della chica boom derivano proprio dai letrabots e sono praticamente dei fagiolini che rimangono in piedi ovviamente dopo vediamo come funzionano ne avevo alcuni simili quando ero piccola e li trovavo molto carini sono tipo personaggi di vario di vario genere come vedete qua ci sono tipo maghi principesse mostri oppure personaggi di halloween e altre cose che andremo a vedere e qui appunto c'è il fumetto che voi potrete andare a leggere non ve lo spoilero c'è il fumettino in allegato allora la blind bag è fatta così si chiamano vblis o vblis non so come leggerli esattamente sono magnetici e vedremo appunto come funzionano e girano qui ci dice flip perché si ribaltano e si scontrano anche tra loro tra questi sulla blind bag vediamo appunto che c'è un unicorno uno squalo e un alieno credo sia e appunto questi sono altri che possiamo trovare il costo è di 3 euro e 99 e è la prima serie ci sono due personaggi all'interno con due carte c'è anche la sirena e lo scienziato molto carini che sembrano anche abbastanza grandi da quanto sento quindi andremo a vedere come sono allora adesso lo apriamo intanto sullo sfondo vedete un po di personaggi che abbiamo aperto negli anni e niente andiamo a vedere chi trovo e che abbiamo trovato allora c'è questo che sembra tipo un super cattivo dorian si chiama allora non non sono stampati ma c'è una plastica fuori tipo col disegno quindi ho paura che si rovinino non essendo stampati però non lo so vedremo e quest'altro è un tipo che fa surf credo in costume e si chiama sin server che sta sulla spiaggia qua a un tatuaggio una stella marina appunto questo tra i due penso di preferire il super cattivo sono magnetici già lo sento e dopo vediamo come funzionano vediamo un po la checklist e le card allora queste sono le carte sono di plastica come vedete e appunto questi sono i due personaggi allora vediamo un attimo la allora mamma mia sono tantissimi allora vediamo un po alla volta ci sono questi quelli sportivi quelli supereroe infatti ho trovato il super cattivo che è in grigio non so perché vedremo dopo forse è più raro poi ci sono i cani questi non ho idea di cosa siano poi c'è quelli del laboratorio segreto safari della spiaggia bosco acquario animali pet insomma questi qua della casa stregata scuola fattoria e non so perché c'è l'unicorno va beh e poi l'ultra raro che un altro unicorno e è quello diciamo con principesse draghi e maghi eccetera allora andiamo ad aprirne qualcun'altra vediamo chi troviamo stavolta allora il primo che pesco è l'alieno carinissimo mi piaceva con la pistola laser e dietro un razzo e si chiama l'orque v v black sian black sian e questo invece credo sia il bagnino quindi sempre sì bagnino sempre sulla spiaggia e queste sono le loro card vediamo un po eccole qua poi questo intanto è un elefante è una specie di cosa per lanciarli non ho idea non so perché sia solo in uno e in questo abbiamo quindi soltanto l'elefante che a queste due cose per lanciarli ok interessante poi a questo anche ce l'ha questo qua un cane lucky giwawa e anche qua c'è questo per lanciarli poi allora questo qua sembra la smith agente segreto ok il secondo è una zebra quindi di quelle del safari credo sia ah io ho appena visto che la zebra ha la carta dorata quindi è speciale infatti credo che proprio si illumini al buio quindi glow in the dark sali ultimo allora vediamo il fenicottero carino e ultimo 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 un robot credo sempre spaziale rodney carino allora per giocarci ci sono vari modi o appunto si utilizza un bersaglio e si lancia e si vede chi riesce ad arrivare al centro oppure si utilizza quella trottola che abbiamo trovato in alcune bustine e si può praticamente attaccare per via di una calamita e si lancia oppure si cerca di trascinare uno con l'altro diciamo di spingere più che altro uno con l'altro i personaggi e fargli fare una specie di percorso oppure lanciarli tutti verso uno di quelli oppure impilarli così e poi vedere chi riesce insomma a impilarne di più senza che si stacchino e infine questo e niente ci sono quindi varie modalità di gioco vi spiega tutto bene qua sul retro del foglio sono divertenti da collezionare e ovviamente c'è anche il gioco di carte come avete visto insomma le singole card del personaggio hanno dei punteggi dietro e quindi potete giocare anche con queste e niente sono molto carini devo dire l'unico dubbio era sul fatto che appunto non siano stampati ma siano fatti in plastica quindi potrebbe rovinarsi però non lo so quello si scopre solo giocandoci diciamo e allora abbiamo trovato questo che è raro il chihuahua poi abbiamo trovato questo che è glow in the dark ed è l'ultra raro dorato e poi abbiamo trovato un altro raro che appunto era questo come avevamo intuito il super cattivo e niente li trovo molto carini fatemi sapere appunto se vi piacciono e se li acquisterete vi lascerò il link a questo video sulla community così potete dirmelo però li trovo molto carini anche come collezione insomma vediamo un po' ecco carini rimangono appunto impilati senza che cadano perché le calamite sono parecchio forti devo dire quindi ottimo e niente questo è tutto fatemi sapere se la mia recensione vi è stata utile io vi mando un bacione un salutone ci vediamo al prossimo video mi raccomando restate sintonizzati per prossimi video ciao ciao ciao